Cosa eravate tre anni fa? Cosa sarete tra dieci? Cosa siete sempre stati in fondo al vostro cuore? Io sono un grafico! Vieni, Pielo, vieni! Quante volte glielo devo dire? Mi chiamo Piel! Eh, ma si chiunque cagnata io no! Sono convintissimo che quest'ultimo sforzo incontrerà senz'altro i suoi gusti. Trovo piace. A faccia mia, a così grosso, a dei cangop. Questo è il contest del secolo! Tu ti iscrivi al sito, posti un messaggio e loro ti lo mandano nello spazio. Sei qui per un colloquio di lavoro. Teletrasporto! Sono stato ravvito dagli alieni! Facci il caffè per tutti e tre! Mi hanno assunto come grafico nello spazio! Una figata pazzesca, proprio la dovevi vedere! Andiamo a fargli il culo! C'è una cosa che devo dirti da tanto, tantissimo tempo. Comprare una rosa? No, grazie. Siamo fratello e sorella. Anche io ho sposato mia sorella. Io ho regalato mille fiori. stood per sempre! Sempre zUEこんにちは! C'è una cosa che-trodata che era... C'è una cosa che per un tuto! C'è una cosa cheова con la ho umannata che chewbara.